Un ragazzo di 19 anni è stato arrestato dalla polizia a Palermo e condotto in carcere con l'accusa di avere abusato di una cugina di 8 anni. Il provvedimento, su richiesta della procura, è già stato convalidato dal GIP. Le indagini sono state avviate dopo la testimonianza della bambina raccolta dagli agenti della polizia di Stato all'ospedale di Cristina dove la piccola era stata portata dalla madre. Gli accertamenti medici hanno confermato che la ragazzina ha subito violenza. Le indagini sono poi sfociate, come detto, nell'arresto del giovane. Momenti di tensione si sono registrati davanti l'abitazione del 19enne quando sono arrivati i poliziotti per arrestare l'indagato.